Sono diversi anni che questa manifestazione non è più stata organizzata a Lucca. Quali sono le caratteristiche di questo incontro e che importanza a livello nazionale? Sì, sono diversi anni che non viene organizzato per vari motivi logistici. Siamo riusciti a organizzare questo evento a livello internazionale, con la TORET da tutta Europa. Abbiamo il lusso di avere due atleti lucchesi, di cui Francesco Cosmi e Bernardini Marcello, allenati da sottoscritto l'Anti Cristiano, della profeta Juan Lucca, insieme a mia moglie Manola Mugnaini, che è quella che gestisce il cuore dell'associazione. Io consiglio di venire a vedere questi match perché penso che uscirete molto soddisfatti. perché sono degli atleti a livello veramente internazionale.